Gentili telespettatori, ben trovati al Nino Caltagirone di Mussomeli per questo big match del campionato di seconda categoria tra Chiara Montana, Mussomeli e Spartacus San Cataldo. Vedete già le squadre schierate al centro del campo e andiamo subito con le formazioni. La Chiara Montana, squadra di casa in maglia blu, schiera la mattina Messina Marangon, San Martino, Calaca, Podici, Saia, Orlando, Lapiana, Alessi e Misuraca. Lo Spartacus San Cataldo in maglia rossa con bordi gialli ha in campo Amico, Viscuso Mangione, Lamarca, Peregrino, Bellomo, Gomez, Corbo, Marcenò, Scarantino o Geda. In panchina per la Chiara Montana, mister Torquato, Porta, Favata, Mammola, Messina, Catania, Petrone, Walter Cala e Castiglione. La panchina del Spartacus San Cataldo è composta da Fazio, Guarino, Centanni, Cala, Coppolino, Treville e Carruba. Arbitrerà l'incontro il signor Carmelo Contrino della sezione di Agrigento. Il saluto per noi del Platane vi giunge da Rino Pitanza che vi terrà compagnia insieme a Gianluca Consolida. Fischia l'arbitro, parte Alessi, mette in mezzo, attenzione, Cala e il colpo di testa! Ma c'è il fuorigioco fischiato dal signor Contrino. Nulla di fatto, viene attaccato da Marcenò, sa il tiro di Pugno a liberare Amico e poi il tiro di Orlando termina fuori. In mezzo, attenzione, mischia, c'è l'uscita di Pugno di Amico e poi fallo in attacco della squadra di casa, calcio di punizione Spartacus. Calcio di punizione, Chiaramontana, Daniele Calà sulla sfera, direttamente in porta, il tiro non termina distante dai pali di Amico, occasione Chiaramontana, 0 a 0. Calcio di punizione Spartacus, parte Ogeda, direttamente in porta e c'è la parata, attenzione, doppia parata la mattina. Ottimo l'intervento del numero uno della Chiaramontana a salvare la sua porta. Ancora prova la piana, la piana in mezzo, anzi è Saia, Saia in mezzo, prova questa azione, c'è una protesta per un presunto fallo di mano. Ancora mette in mezzo, il tiro e c'è l'occasione, Chiaramontana, la palla termina fuori non di molto. Ancora in avanti, una mischia e c'è l'intervento risolutivo di Amico in calcio d'angolo, occasione Chiaramontana. Tiro in mezzo, prova il batti e ribatti con il non c'era fuori gioco, Calà viene anticipato dall'uscita di Amico. Marangon da quel lato, prova Marangon in avanti, attenzione, non c'è fuori gioco, prova ancora in mezzo, attenzione, Misuraka fischia l'arbitro. Proteste della Chiaramontana. In avanti ancora c'è Saia, attenzione alla Chiaramontana, Saia, Saia, in mezzo, Saia il tiro. Alla fine, buono l'intervento di Viscuso in calcio d'angolo. Termina il primo tempo, 0-0 tra Chiaramontana e Spartacus, la squadra di casa più incisiva in avanti alla ricerca del gol, anche se Amico non ha corso seri pericoli. Gioca di rimessa, lo Spartacus è stato impegnato la mattina in un paio di circostanze. Sovrapposizione di Mangione, mette in mezzo Geda, Messina, attenzione, il tiro e c'è l'occasionissima per Scarantino. Sfiora il palo della porta di la mattina. In mezzo, attenzione, il colpo di testa di Calà. Termina fuori. Messina, attenzione, adesso lo Spartacus, occasione ancora con Scarantino, ci deve pensare Messina a mettere in fallo laterale. Alessandro Messina, in avanti il taglio, non c'è fuorigioco, attenzione. Misuraka, Misuraka, entra in aria, Misuraka, Misuraka, il tiro a rete! Rete, Misuraka in vantaggio! La Chiaramontana! Vai ancora, lo Spartacus, attenzione, il tiro e c'è il gol! Il gol del pareggio dello Spartacus! Pareggia lo Spartacus! Guarda il cronometro l'arbitro, prova l'ultima azione in avanti, Marangon e termina con il triplice flischio del signor Contrino. Il big match della seconda categoria tra Chiaramontana, Mussomeli e Spartacus e San Cataldo. Il risultato finale di 1 a 1. L'erete al 65esimo di Misuraka per il vantaggio dei padroni di casa. Poi all'89esimo, un minuto dal termine più i 5 di recupero, pareggia Scarantino con un tiro dal limite.